ciao rieccomi qui allora vediamo chi ha indovinato di cosa vi potrò mai parlare adesso una cosa che aspettate tutti qualcuno mi ha già chiesto quando arriva quando arriva è arrivata e stiamo parlando della brochure di natale ci sono tantissime cose bellissime purtroppo non le ho tutte da farvi vedere ma come dico sempre farò del mio meglio poi diciamo che giovedì sera abbiamo una bella riunione in presenza e magari riesco anche a recuperare qualche altro prodotto che sarà in promozione allora vi dico subito che la brochure di natale valida fino al 26 di novembre sono tutti prodotti ad esaurimento scorte quindi pensateci bene non perdete troppo tempo perché se finiscono io poi non vi posso più aiutare sapete che io sempre il mio bugiardino perché sono talmente tante cose allora la prima promozione di cui vi voglio parlare è una cosa che vi ho fatto vedere proprio l'altro giorno che l'ho utilizzata per decorare la mia torta cimitero e sto parlando della penna decori ve ne ho parlato già tantissime volte adesso arrivano le feste ci divertiamo a fare dolci biscotti e quant'altro ma non solo perché sapete che potete utilizzarla anche con ketchup maionese salse salate comunque la promozione ne comprende due quindi se avete due bambini li mettete lì li fate divertire e fate anche più in fretta altra promozione li prendo un po a caso è è questa bellissima ostrica eccola qua vi faccio vedere bene da vicino i disegnini sperando di non fare ecco pan di zenzero l'alberello è un'ostrica è vero ma è un bellissimo pensiero scusate ho sentito un botto pazzesco rieccomi scusate ma ho sentito un botto potentissimo invece sono i camion fuori che vabbè dicevamo una ostrica potrebbe essere una bellissima idea di per un pensierino comunque ci potete mettere dentro un pacchettino di biscotti per esempio e in confezionarla mo di pacchetto regalo sapete che queste oltre che per alimenti potrebbe essere tranquillamente che ne so un porta trucchi piuttosto che i pastelli pennarelli ci stanno benissimo i grissini insomma ognuno ne faccia un po l'uso che preferisce però secondo me è un'idea molto carina da regalare per natale poi altra promozione torniamo a parlare di silicone lo stampo pupazzo di neve e tenetevi pronti seguitemi sul mio canale whatsapp perché farò una ricettina una tortina bellissimo e anche questo è può essere una bella idea come regalo di natale se avete un'amica cui piace fare dolci con questo quasi divertirà tantissimo e con la penna decori potrebbe andare a decorare poi quelli che sono i vari dettagli poi altra promozione non ho da farvi vedere quelli in promozione però giusto per farvi capire sono il nostro tutto tondo da un litro e cento questi per capirci hanno ovviamente i disegni natalizi vanno benissimo per caffè sale zucchero pasta biscotti farine qualsiasi tipo di alimento secco ma vanno bene anche in frigorifero però quando vedrete la fantasia secondo me direte no questi devono stare in bella vista anche questi volendo potrebbero essere un'idea regalo magari il 7 ne comprende due uno da una parte uno dall'altra e con pochi soldi avete fatto due bei regali perché sapete bene che oggi come oggi con 10 15 euro non è che regaliamo molto e allora piuttosto optiamo per qualcosa che è anche utile oltre che bello e poi c'è una linea stupenda da dove parto allora aspettate che devo guardare bene come sono suddivise abbiamo la nostra fantastica antipastiera della linea allegra in un colore meraviglioso io adoro dentro nera fuori dorata e vi dico che è glitterata esattamente l'antipastiera sapete adesso arriveranno le feste quindi noccioline piuttosto che mortadella cubetti formaggi sott'olio sott'aceto salse varie cioccolatini caramelle chi più ne ha più ne metta è stupenda insieme volendo potreste prendere anche il coperchio duo dell'antipastiera che diventa guarda come bello lucido dentro un antipastiera a sua volta vi faccio un esempio se io qua metto insalata russa gamberetti salsa rosa insalata capricciosa sapete che se le lasciamo scoperte si diventano scuriscono no invece ci mettiamo sul suo bel coperchio e non succede oppure se mettiamo dentro i pistacchi le noccioline qua dopo lo utilizziamo per mettere i gusci insomma divertitevi un po ad usarlo come preferite e sono in offerta separatamente i plantipastiera e il coperchio poi abbiamo in promozione io sto seguendo la ciotola da un litro e mezzo guardate che spettacolo bellissima io non so se riesco a farvi vedere mai letterata è stupenda sono ciotole in cui non vanno messi alimenti troppo caldi e mi raccomando però anche un sigillo ermetico per cui una volta chiuse se dovete sempre sentire il adesso non ci riesco perché nuova 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 da seduta poi anche meno allora eccolo qua vedete che è chiusa il coperchio comunque facilissimo da aprire e c'è in promozione anche quella più grandina da tre litri e mezzo eccola qua bellissima e poi ci sono anche le stupendissime coppette guardate che belle fuori tutte nere e dentro dorate bellissime stupende e allora sono acquistabili singolarmente ma c'è anche la possibilità di acquistare il set che comprende la ciotola da un litro e mezzo l'antipastiera e due coppette quindi questo è già un set poi aggiungete quello che manca e avete una linea stupenda da mettere in tavola per le feste ma anche da regalare perché no assolutamente mi viene in mente questa più grande un po di paglietta un po di frutta di stagione piuttosto che il torrone le lenticchie il salame il cioccolato è carta trasparente fiocco rosso e anziché utilizzare i cesti in vimini che poi finiscono in pattumiera regalate una bellissima ciotola poi adesso arriviamo al bugiardino sono i prodotti che purtroppo non ho da farvi vedere e mettiamo anche l'occhialino se no mi dimentico qualcosa abbiamo in promozione e bene sto controllando è tutta la linea allegra questo ve l'ho detto allora abbiamo in promozione le nostre pentole unità di cottura della linea mastro esattamente c'è la casseruola da 5 litri la wok meravigliosa la casseruola da 2 litri 8 e il tegame da 20 cm sono stupende ve ne ho parlato tante volte vi ho anche fatto vedere come le utilizzo è vero hanno un costo ma credetemi che li valgono tutti allora queste sono tutte le promozioni che durano fino al 26 di novembre che fanno parte della brochure di natale quindi mettetevi lì guardatele bene e dite ma guarda un po arrivo a 100 euro bene allora a questo punto divento cliente privilegiata o incaricata così avrò anche lo sconto su tutti questi prodotti già scontati e andiamo a risparmiare anche sui regalini di natale perché no male non fa se poi volete anche darci una mano ad arrivare a più persone diventerà diventate incaricati anche voi e anziché risparmiare ci guadagnate qualche soldino che male non fa io adesso vi saluto ma mi raccomando unitevi al mio canale whatsapp perché tanti di questi prodotti ne vi andrò a spiegare in modo approfondito farò qualche video ricetta per cui se vi interessa vi aspetto di là ciao grazie 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 grazie